I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato una persona e poste a domiciliari altre quattro. Tutti risultano indagati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DDA di Reggio Calabria su un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico illecito di rifiuti. Secondo quanto è emerso dall'indagine, l'organizzazione avrebbe sversato illecitamente oltre 5.000 tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Balanidi, uno dei corsi d'acqua che attraversano Reggio Calabria. Alle persone coinvolte nell'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Rosario Balanidi vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, disastro e inquinamento ambientale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e occupazione abusiva di suolo pubblico. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e del procuratore aggiunto Stefano Musolino. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di un'azienda specializzata in attività di demolizione e movimento terra della quale i titolari ed alcuni dipendenti sono le persone indagate. Sono stati sequestrati anche conti correnti bancari, quote sociali, autocarri, mezzi d'opera ed alcuni automobili di lusso. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 35 e i 65 anni ed alcuni hanno precedenti in materia ambientale e per associazione per delinquere di tipo mafioso. Alcuni degli stessi indagati inoltre in passato avevano subito provvedimenti antimafia che avevano portato alla confisca di una società operante dello stesso settore dello smaltimento dei rifiuti e riconducibile a locali cosche di Ndrangheta. Le indagini sono partite da diversi sopralluoghi dei carabinieri sul torrente interessato dallo sversamento illecito dei rifiuti che avveniva tra l'altro in pieno giorno. I rifiuti consistevano soprattutto in inerti provenienti da attività edili.